ciao a tutti e benvenuti questo è l'italiano in podcast io sono paolo e state per ascoltare l'episodio numero 378 di lunedì 13 dicembre 2021 anche oggi come ogni giorno siamo qui per un nuovo esercizio di ascolto e comprensione della lingua italiana puntata del lunedì la settimana ricomincia per tutti è il primo giorno lavorativo e quindi immagino che molti di voi non siano molto contenti ma in realtà per me il lunedì è un giorno molto produttivo di solito è strano ma negli ultimi negli ultimi tempi questo è davvero un giorno in cui faccio molte cose di solito ci sono anche molte cose non solo da fare ma anche cose come abitudini molti di voi le conoscono e quindi molti di voi sanno che il lunedì non è il mio giorno preferito ma è il mio giorno probabilmente più produttivo e spesso il lunedì è in grado può determinare l'andamento di tutta la settimana sì perché è come quando si inizia bene la giornata se le cose funzionano dall'inizio beh probabilmente la giornata funziona bene per me è un po così se il lunedì funziona bene questo rende facile un po tutto il resto della settimana e può anche determinare cioè decidere decidere il mio umore di tutta la settimana quindi quando il lunedì va bene tutto è più facile per me forse per questo che cerco di essere molto produttivo ma comunque lunedì martedì domenica venerdì io sono sempre qui ad eccezione del sabato come tutti quanti voi ormai sapete per chi non lo sa l'italiano in podcast c'è tutti i giorni escluso il sabato il sabato è il mio è il nostro mio del podcast giorno di riposo quindi sono sempre qui per lo stesso motivo come ho detto all'inizio per dare a tutti voi un contenuto che possa aiutare gli studenti della lingua italiana a fare un po di pratica di ascolto ovviamente non è facile avere a disposizione un madrelingua per parlare e probabilmente l'ascolto di un podcast o di un contenuto come questo può essere un aiuto molto grande non è un film non è qualcosa di preparato è qualcosa di spontaneo e quindi è più facile riuscire a capire meglio il modo di parlare il modo di pronunciare insomma in questo esercizio forse potete avere una un'idea più chiara di come parla un italiano medio diciamo così un madrelingua medio e quindi questo può aiutare a migliorare la capacità di comprensione ma anche forse può aggiungere qualcosa al vostro modo di parlare l'esercizio più importante è ovviamente l'ascolto e la comprensione e siamo qui per questo anche oggi quindi certamente il mio consiglio è sempre lo stesso come sapete questo spazio questo contenuto si divide più o meno in due parti la prima che riguarda la mia vita personale vi faccio compagnia con il racconto di quello che accade ogni giorno nella vita di paolo e poi anche vi racconto insomma quello che succede in italia con alcune notizie non troppe ma quelle più comuni quelle più interessanti ma anche più come dire quelle che sono più in vista quelle che sono davvero sulle prime pagine di tutti i giornali in tutti i telegiornali o nei principali siti web di informazione quindi come dicevo il mio consiglio anche oggi prima di iniziare è quello di mettervi comodi trovare un posto nella casa o in ufficio o in macchina dovunque un posto dove stare comodi e rilassati e aprite bene le orecchie anche la mente forse non è un esercizio di meditazione ma aprite anche un po la mente a questo mio questo mio racconto e cercate di c'è questo verbo che uso sempre acchiappare tutto l'italiano che potete quindi cercate di trovare le parole nuove che non conoscete cercate di capire alcune espressioni idiomatiche a volte che uso ma soprattutto cercate di capire il senso di ciò che dico questo è più importante e anche questo lo dico sempre se sfugge qualche parola non non preoccupatevi troppo se potete capire dal contesto andate avanti e poi alla fine cercate meglio e approfondite la parola per fissarla meglio ma mentre ascoltate non non date peso a qualche buco in cui non c'è un'idea chiara della parola rimane il cervello l'ha ascoltata rimane nella testa poi con calma potete capire meglio il significato e fissarla appunto meglio nella memoria ma questa introduzione è già troppo lunga quindi passiamo invece alla parte vera del podcast e permettetemi di farvi compagnia per qualche minuto anche oggi bene la giornata iniziata molto presto ormai questa è un'abitudine la sveglia non suona non serve più mi sveglio quasi sempre un po prima delle sei ma molto riposato con la voglia di fare molte cose questo perché la sera vado a dormire più presto e per questo mi permette finalmente di dormire un po di più più o meno tra le cinque ore e mezza le sei ore a volte anche più di sei ore può sembrare poco ma per me invece è una quantità di tempo adeguata cioè giusta adatta alle mie esigenze e questo mi permette appunto di svegliarmi appagato da questa quantità di sonno quindi senza questa sensazione di voler dormire ancora e invece la capacità di poter subito funzionare abbastanza bene è una sensazione molto bella e probabilmente questa è la mia nuova fascia oraria per il sonno più o meno dalle 11 30 la sera fino fino alle cinque e mezza alle sei del mattino e questo non mi dispiace affatto perché la giornata può iniziare molto bene a quest'ora c'è molta pace c'è molta tranquillità e a volte si certe cose sono più semplici poi vi parlerò meglio di questo quindi sveglia presto come sempre e da subito ho iniziato a fare qualcosa un po di lavoro prima di tutto do un'occhiata un po la situazione generale le mie mail do un'occhiata all'andamento del podcast al mio blog faccio un po una verifica di come sono andati gli ascolti quante persone hanno visitato il blog poi do un'occhiata ovviamente alle notizie e cerco di organizzare un po la giornata qualche volta scrivo delle mail qualche volta comincio a lavorare al blog se c'è qualcosa che devo fare tutto questo prima di uscire per fare la colazione più o meno alle 7 o 7 e 30 più le 7 e 30 di solito e questo lunedì è stato così quindi sono uscito per la mia colazione alle 7 e 30 e poi sono rientrato in casa non ho fatto una passeggiata perché dovevo sistemare alcune cose ma non per me cose di famiglia come spesso accade beh la giornata era bellissima è stata tutta bellissima come negli ultimi giorni come domenica anche e anche una buona parte del sabato non uscire di casa è impossibile con questo sole con questa bella aria insomma fresca ma non troppo è più freddo ovviamente ma non troppo la voglia di stare un po fuori è troppo forte per me quindi appena finite alcune cose in casa sono uscito per una bella passeggiata questa mattina sulla spiaggia proprio quindi sulla sabbia ma poi sono dovuto rientrare perché avevo un'altra un altro impegno dovevo andare in un ospedale di una città vicina per ritirare alcune alcune analisi di mia madre purtroppo il sistema informatico della regione è un po nel caos nei mesi scorsi c'è stato questo attacco informatico che ha reso necessario il cambiamento di alcuni sistemi e quindi adesso tutto sta passando c'è quindi c'è questa trasformazione questo passaggio tra un sistema e un altro e questo crea chiaramente diversi problemi questo mi ha impedito di ottenere questi risultati via internet insomma da dal sito dal sito della della regione quello che si occupa appunto della della salute della sanità questo mi ha costretto invece ad andare di persona in questo ospedale per ritirare questi risultati è una cosa che non faccio mai ma o almeno molto raramente ma oggi è stato necessario e come sempre ogni volta che vado in questo posto in questo piccolo ufficio vicino alla sala in cui si fanno i prelievi del sangue per gli esami per esami insomma per le analisi beh ogni volta che vado in questo posto c'è sempre qualcosa che non va non trovavano questi risultati per molti motivi perché c'è stato questo problema informatico quindi questa persona una delle persone che lavora lì come sempre aveva qualche difficoltà ma questo accade anche quando tutto funziona perfettamente quindi sono abituato insomma a dover trovare qualche piccolo problema in questo posto per fortuna alla fine le analisi i risultati delle analisi sono saltati fuori cioè sono usciti sono stati trovati questa espressione sono saltati fuori spesso vicino a finalmente sono saltati fuori significa appunto che sono stati trovati insomma beh non è stato così male fare questo piccolissimo viaggio questa piccolissima gita perché in questo piccolo paese che si trova su una piccola collina tutto piccolo c'era una piccola celebrazione oggi è il giorno di santa lucia e in questo giorno storicamente in questo paese c'era una fiera dove si vendeva il bestiame cioè gli animali pecore mucche asini cavalli questo genere di cose non so se adesso c'è qualcosa nel pomeriggio nella sera non lo so ma nella mattina c'era e di solito c'è sempre un normale mercatino in questo caso più natalizio forse ma questo mi ha permesso di fare qualche video nella piazza centrale della città e soprattutto mi ha permesso di ricordare che forse interessante per il blog scrivere qualcosa anche di queste zone nelle zone in cui vivo e così ho fatto qualche video dalla piazza centrale del castello che c'è al centro di questo paese un piccolo castello non molto grande un palazzo ducale in realtà a fianco c'è una bella villa comunale con le panchine un giardino e soprattutto davanti c'è questo belvedere che mi dà una vista bellissima su tutto il golfo in cui io vivo un belvedere un posto alto dove si può godere un panorama di una zona di un'area può essere una città può essere un golfo sul mare come in questo caso ma davvero mi ha fatto molto piacere fare qualche foto e qualche video da questo luogo molto carino devo dire è uno dei punti di osservazione più interessanti sul sul golfo appunto in cui vivo dopo un po' quindi sono rientrato però a casa ho fatto appunto questi video queste foto e probabilmente domani pubblicherò un piccolo articolo sul mio blog con un video qualche foto di questa piccola piccola gita e vi invito ovviamente a visitare il sito per dare un'occhiata a questo posto a rientro a casa beh ho iniziato subito a lavorare a questa cosa a scrivere un piccolo un piccolo post per il blog l'ho lasciato quasi finito prima di iniziare una lezione nel pomeriggio oggi è un giorno di digiuno quindi non ho mangiato da ieri sera fino a questa sera e quindi il pranzo diventa un momento di lavoro anche per me questo ha allungato incredibilmente questa giornata la sveglia presto ho saltato il pranzo quindi molte ore a disposizione dopo la lezione del pomeriggio una delle due lezioni di oggi ho continuato a lavorare a questo articolo questo posto l'ho finito domani aggiungerò dei link come sempre un audio e poi lo pubblicherò ho ovviamente programmato di correre oggi e per fortuna ci sono riuscito sono uscito intorno alle 6 di sera per fare questo e devo dire che da subito però le sensazioni non erano affatto buone la mia gamba sinistra la mia coscia sinistra non funziona bene i muscoli sono hanno qualche difficoltà forse solo stanchezza ma da subito ho capito che non potevo fare una corsa veloce quindi ho semplicemente fatto una corsa un po più breve un po meno di 9 chilometri e a una velocità molto più bassa del solito solo per allenarmi e non rinunciare alla corsa ma chiaramente dovrò o devo stare un po tranquillo nei prossimi giorni e dare tempo alla gamba di riposare un po e di guarire al cento per cento per fortuna adesso mi accorgo in tempo di questi problemi prima di problemi troppo seri e sono in grado insomma di gestire meglio queste cose non è niente di grave probabilmente fra dieci giorni posso ricominciare a correre in un modo naturale ma per un po quindi due o tre corse mi mi accontenterò mi accontento di fare una corsa tranquilla non veloce non lunga solo per mantenere un po l'allenamento a ritorno dalla corsa poi ancora qualche piccola commissione dopo una bella doccia ovviamente ieri sera freddo ma non troppo non ho sentito troppo freddo durante la corsa e devo dire che in generale la temperatura è un po più alta dei giorni passati qualche piccola spesa tra l'altro ho dimenticato di passare in lavanderia devo ritirare delle cose è una delle cose che non ho fatto ieri e mi devo ricordare domani ma per il resto tutto è andato molto bene mi sono sentito come ho detto molto produttivo e ho fatto molte piccole cose non troppo grandi ma diverse quindi tante piccole cose e poi ho scritto anche un buon pezzo di questo sono contento la giornata quindi è stata positiva e la settimana è iniziata bene quindi penso che continuerà ad andare bene e questo mi fa stare abbastanza rilassato e anche un po allegro a dire la verità dopo la cena che c'è stata intorno alle 9 e 30 le 9 scusate di sera un po prima della fine delle 24 ore di digiuno dopo la cena ho avuto un'ultima lezione prima di prepararmi per andare a dormire avevo molta fame quindi ho mangiato molto volentieri forse perché ho fatto molte cose sono stato molto in giro quindi ieri sera avevo un buon appetito per fortuna tutta qui la giornata quindi solo due lezioni molte commissioni c'è molte piccole cose da fare fuori casa dentro casa un buon articolo secondo me un buon inizio di settimana davvero ci vuole è molto piacevole cominciare con il piede giusto questo significa questa espressione significa iniziare bene iniziare con il piede giusto lo diciamo lo diciamo lo diciamo spesso beh non spesso ma è un modo comune di dire che le cose iniziano bene quindi sì direi che il mio lunedì è un po tutto qui come notate cerco di non fermarmi anche quando dovrei fare una pausa voglio continuare a parlare senza fermare la registrazione e quindi senza fermare la registrazione vi dico che possiamo passare a parlare adesso della delle notizie di oggi perché la mia giornata è finita così un'ultima lezione un po di come dire rilassamento con qualche video qualcosa da vedere qualche piccola ricerca su internet e poi l'ora di dormire e come sempre non è servito molto tempo per addormentarmi come sempre in questi ultimi giorni da quando cerco di spostare l'inizio del mio sonno un po più presto bene come dicevo vediamo invece cosa è successo in italia oggi in questo lunedì 13 dicembre oggi ci sono alcune notizie di cui voglio parlarvi la prima riguarda questa tragedia di cui ho parlato già ieri questa tragedia di ravanusa in provincia di agrigento questo piccolo questa piccola città di circa 10.000 abitanti come vi ho detto ieri c'è stata una grande esplosione che ha distrutto 5 palazzi e ha danneggiato anche altri edifici vicini purtroppo è aumentato il numero dei morti sono sette adesso le persone trovate morte e ci sono ancora due dispersi due persone che non si trovano si continua ovviamente a scavare tra le macerie cioè tra i resti delle case distrutte anche grazie ai cani ai cani che fanno benissimo questo tipo di lavoro che cercano appunto i superstiti e purtroppo anche le persone che non ce l'hanno fatta che sono rimaste vittime del crollo la speranza di trovare delle persone vive ovviamente con il tempo diminuisce ma non è ancora non è ancora finita forse e ovviamente si comincia a cercare di capire cosa sia accaduto spesso in queste tragedie c'è purtroppo qualche responsabilità non c'è niente di sicuro ancora ma sembra qualcuno dice che forse nel passato c'erano stati già dei problemi e la società che si occupa della rete del gas forse sapeva di qualche piccolo rischio in questa zona non c'è niente di certo come vi ho detto sono solo ipotesi nient'altro però comincia ad uscire fuori una ipotesi di qualche problema qualche irregolarità nella rete del gas ovviamente è molto presto per dire questo vi dico solo quello che i giornali dicono la compagnia del gas si è difesa ha detto che le irregolarità che c'erano sono state nel passato sistemate e tutto era normale ma chiaramente tutto è da vedere e nelle prossime settimane ci saranno informazioni più precise vedremo cosa accadrà intanto speriamo che sia ancora possibile trovare queste due persone vive sono un uomo di 88 anni e un altro uomo di 59 anni speriamo come ho detto che si possano ancora trovare queste persone vive sotto le macerie dei palazzi distrutti vi farò ovviamente sapere nei prossimi giorni un'altra notizia che mi piace darvi anzi no prima vi do una notizia un po' noiosa ah sì politica la proroga della stato di emergenza quindi lo spostamento della scadenza dello stato di emergenza forse ci sarà e probabilmente sarà al 31 marzo quindi lo stato di emergenza causato dal covid sarà prolungato diventerà più lungo e continueremo con questa situazione di emergenza probabilmente fino al 31 marzo questo è un atto formale cioè è praticamente un modo ufficiale in cui il governo stabilisce che questo è un periodo eccezionale capite bene che questo ha delle conseguenze sulla vita politica del paese e non solo stabilire decidere lo stato di emergenza è una cosa che ha ovviamente delle conseguenze per questo è molto importante ma anche su questo vi farò sapere nel futuro per ora c'è questa ipotesi del 31 marzo come nuova scadenza la buona notizia è che abbiamo bel tempo e questo anticiclone Santa Lucia così è stato chiamato questo vortice di aria calda che porta bel tempo resterà con noi per molto tempo quindi l'arrivo di aria più calda non è solo una mia sensazione ma è davvero così arrivare a più calda e probabilmente avremo giornate belle e un po' meno fredde ma una notizia bella di cui vi volevo parlare riguarda una delle mie passioni che che è il cinema e non ho ancora visto questo film di Paolo Sorrentino il nuovo film di Paolo Sorrentino è stata La mano di Dio questo è il titolo ma arriva la buona notizia che è tra i candidati al Golden Globe come miglior film straniero questo mi fa molto piacere ovviamente e mi ha ricordato che devo assolutamente guardare questo film perché ho la sensazione che sia un film molto interessante ne ho già parlato in passato si tratta di un film autobiografico in cui Paolo Sorrentino racconta una parte della sua vita o almeno è ispirato a una parte della sua vita e quindi credo che forse il regista ha messo qualcosa in più in questo film un impegno forse più grande ma non solo un impegno forse un tocco artistico un po' più profondo non so è qualcosa che riguarda la sua vita personale immagino che lui abbia fatto un lavoro più con il cuore che con la testa quindi probabilmente il risultato sarà sicuramente ottimo e sono molto curioso di vederlo sicuramente a breve insomma appena mi è possibile guarderò questo film e ovviamente vi dirò la mia opinione queste le notizie non covid nella giornata mentre adesso beh ovviamente vi vi darò il bollettino come ogni giorno vi do un'ultima notizia però non covid si parla di 14 milioni di italiani in viaggio per le vacanze di natale sembra che ovviamente la montagna e le città d'arte siano le mete preferite cioè i luoghi in cui andare preferiti ma questa è solo una previsione speriamo che sia possibile godere un periodo di natale davvero tranquillo e con la possibilità di viaggiare per le persone che possono viaggiare ovviamente beh vediamo un po' il bollettino di oggi cosa dice ci sono 12.700 nuovi casi purtroppo aumentano i morti 98 la il tasso di positività è leggermente migliore 3,8% ieri era 4,1 ma tutti i dati parlano come ho detto già di aumenti ci sono più in generale più casi in generale più vittime in generale più ricoveri di persone e in generale più terapie intensive occupate speriamo di rallentare tutto questo di tenerlo sotto controllo e speriamo che la campagna di vaccinazione proceda bene procede sicuramente bene la campagna per il richiamo del vaccino mia madre anche questa volta non ha avuto grandi problemi solo un dolore al braccio di cui vi ho parlato ma per il resto tutto ok sono 11 milioni e 600 mila persone gli italiani che hanno ricevuto il richiamo siamo più o meno sempre sui 46 milioni anzi sì 46 milioni di italiani che hanno ricevuto il ciclo vaccinale completo cioè le due dosi previste o una nel caso di alcuni vaccini questa dunque è la situazione e speriamo come ho detto e come dico più volte che sia possibile tenere questa situazione sotto controllo come adesso in totale in Italia sono state somministrate somministrare il verbo quando si parla di una medicina di un farmaco o di un vaccino come in questo caso sono state somministrate 102 milioni di dosi vi ricordo che la popolazione italiana è di circa 60 milioni vi ricordo che la vaccinazione non riguarda i ragazzi i bambini sotto i 12 anni quindi questo numero è molto importante e ci fa capire che tra gli adulti la vaccinazione ha avuto un ottimo un ottimo risultato tra poco in alcune regioni compreso il Lazio la mia regione si inizieranno a vaccinare anche i bambini più piccoli cioè minori di 12 anni ma non minori di 5 anni quindi dai 5 ai 12 anni bene tutto qui per questo episodio per l'episodio 200 378 scusate non mi resta che leggervi l'aforisma del giorno prima di salutarvi bene la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre di oggi è questa temo il lettore di un solo libro una frase corta breve di un personaggio molto importante nella storia della cultura italiana e mondiale vi invito a scoprire il suo nome vi invito a scoprire l'autore o l'autrice non è un contemporaneo è un tipo di personaggio che io non cito quasi mai anzi mai forse è la prima volta che cito un personaggio come questo ma scoprite da voi chi è l'autore o l'autrice di questa di questo aforisma vi posso dire che condivido questa idea e che per questo l'ho scelta come aforisma del giorno tutto qui questo episodio del lunedì finisce qui quindi vi do l'appuntamento a domani per un nuovo episodio vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato vi ricordo che sul blog adesso c'è la possibilità di prenotare un incontro con me per una lezione per una conversazione per mettere alla prova il vostro italiano e per aiutarvi a migliorare proprio questa capacità quella di conversazione quindi se siete interessati a conoscermi potete andare sul blog e provare a prenotare un incontro con me ok adesso è davvero tutto quindi io vi saluto e ciao a tutti